Un saluto a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Agora Eco dal titolo Frammenti di un discorso poetico, l'epistolario di Francesco Petrarca di Laura Piras con l'introduzione del professor Roberto Caputo, Rino Caputo, io Rino Caputo, io sbaglio sempre i nomi in età ormai, al quale come mia abitudine io lascio subito la parola perché ci introduca questo interessante volume. Quindi professor Caputo a lei, prego. Grazie, grazie. Dunque sì, pochi minuti per introdurre questo volume che come è stato già detto è un volume molto interessante, molto nutrito e aggiungerei molto elaborato. Ecco, diciamo che la nostra autrice non ha fatto proprio quello che Petrarca asseriva di fare fin da quando aveva 18 anni, cioè torquebam sillabas. Ecco, lui torceva le sillabe invece di fare quello che tutti si aspettavano da lui e invece lui faceva il poeta fin dall'inizio. Ecco, però fin dall'inizio ecco, Laura Antonella Piras ha studiato Petrarca e questo libro è il frutto davvero di un lavoro prolungato, di uno studio fatto ovviamente con attenzione ma soprattutto con amore ed ecco allora eh questo volume sull'epistolario di Petrarca. Ora eh diciamo l'epistolario di Petrarca è eh eh soprattutto eh diciamo nella nella nelle sue partizioni, le familiari, le senili, ecco non voglio far perdere tempo, c'è una sterminata bibliografia su questa attività di Petrarca che tra i primi ecco trasforma come diceva appunto come hanno detto eh gli esegeti novecenteschi no? Eh un discorso apparentemente fuori dal genere letterario in eh vera e propria letteratura cioè eh il genere epistolare eh come scrittura di sé ecco e quindi eh le gène ma non solo le gène insomma tutto il novecento soprattutto con le opere eh eh creative ci ha abituato a eh ritenere il testo epistolare eh tucur come testo letterario e come tale lo dobbiamo considerare nel caso eh di Francesco Petrarca. Quindi ecco c'è eh un'attenzione che eh è difficile contenere a mio parere in un unico punto di vista eh voglio dire eh c'è il punto di vista filologico ecdotico la necessità di stabilire criticamente il testo e molto si è andato avanti ma molto si sta facendo ma c'è e credo inevitabile un momento ermeneutico cioè questa opera che non è eh meno importante delle altre opere petrarchesche che eh davvero persino più del canzoniere è l'opera di tutta una vita no? Si è sempre detto che il canzoniere è l'opera eh di una vita certo eh Petrarca miracolosamente ce lo ha testimoniato col codice degli abbozzi ma l'epistolare non è meno eh rilevante come opera di tutta la sua vita quindi allora i i gli approcci possono essere diversi e ecco vorrei segnalare questo primo punto poi l'autrice eh ci dirà se questo è stato appresieduto diciamo alla sua ispirazione eh di studiosa o o ci sono state anche altre motivazioni eh eh l'epistolare viene trattato da lei proprio come eh occasione eh occasione letteraria eh con le maiuscole dico ecco non e eh e quindi eh in questo senso eh lo dico io ma poi è una già una prima domanda che mi sento di fare a nome di di tutti i lettori reali e potenziali che mi auguro tanti eh alla alla a chi ha scritto il libro e non a caso il titolo è frammenti di un discorso poetico allora uno pensa subito a Roland Barthes certamente ci mancherebbe ma Roland Barthes quando scriveva i suoi frammenti non poteva non pensare a chi è stato il protagonista dei frammenti da sempre e non solo dei rerum vulgarium ma degli sparsa anime fragmenta e cioè ancora una volta il nostro Francesco e dove stanno questi anime fragmenta eh di Francesco Petrarca a mio parere a a buon diritto la la l'autrice lo dice sono proprio all'interno eh dell'epistolario e lo sappiamo perché l'epistolario è davvero una scrittura personale eh spesso quasi sorridendo eh quasi paternalisticamente no abbiamo preso atto che Petrarca eh scrive a tutti come se fossero suoi contemporanei no ha da dire qualcosa a Cicerone e gliela dice in modo che come come se fosse a lui presente e così a Virgilio e poi non solo ma gli strumenti epistolari sono adeguati alla personalità che fa da interlocutrice diciamo e quindi se c'è bisogno lo scrive in esametri eh o se no appunto eh eh lo scrive eh in in modo diciamo che il mezzo sia già un punto di contatto tra l'autore e il destinatario eh dell'epistola quindi ecco questo aspetto frammenti di un discorso poetico io io lo segnalerei come una scelta consapevole eh della Piras cioè occuparsi di quegli elementi dell'opera petrarchesca che si ricongiungono alla uso una parola tremenda che oggi si usa meno ma io continuo ad usarla alla poetica dell'autore ecco eh intendo questo termine in senso molto molto forte ecco e quindi eh la prima eh segnalazione che faccio è questo cioè il il testo è interessante il testo critico elaborato da Laura Antonella Piras è interessante proprio perché sceglie questa via eh di di ermeneutica eh letteraria non meno letteraria diciamo del testo a cui si riferisce anche se poi ovviamente gli strumenti della nostra eh studiosa sono quelli appunto di chi ha fatto una ricerca eh consolidata quella durante il gli anni del dottorato di ricerca e quelli successivi legati proprio all'elaborazione ecco quindi eh mi pare che eh questo possa essere un'occasione per eh avvicinarsi all'opera eh della Piras tenendo conto del fatto che eh insieme eh come Kairos così come occasione davvero non preventivata ma felice ma al tempo stesso a mio parere non casualmente questo studio entra nel dibattito e all'attenzione di studiosi e lettori in un momento in cui su Petrarca eh eh sta eh rinascendo eh una certa rinnovata attenzione mi riferisco a eh libri che in qualche modo tengono presente la la eh una sorta di anniversario no? Quello del duemilaventiquattro quindi poi possiamo fare tanti conti secolari eh sulla sul quattro come nascita e morte di Petrarca ma ecco segnalo in particolare un libro recente di Paolo Rigo ecco sulla prima etate anche questo un titolo molto allusivo ma ecco già eh eh programmatico nella stessa scelta dell'intitolazione e mi risulta dopo eh gli anni scorsi in cui si è parlato di Dante in Petrarca eh si è parlato di una ricezione diciamo di ehm eh varia letteratura nell'autore ecco si annunciano eh altri momenti di attenzione proprio in quanto legati al numero quattro ai quindi al duemilaventiquattro probabilmente usciranno anche nel duemilaventicinque come accade nelle cose editoriali però ecco lo segnalo cioè eh c'è finalmente un'attenzione io ho potuto notare anche sul piano internazionale eh i siti di Petrarca a livello internazionale soprattutto nordamericano ma diciamo l'arricchimento ecco dei dati che attraverso le tecnologie multimediali noi possiamo avere oggi sull'intera opera petrarca quindi ecco al centro di questo movimento ecco sento eh eh di poter porre con sicurezza proprio il volume di eh Laura Antonella Piras e e e quindi chiederei eh mi taccio magari eh qualche qualche eh così brevissimo eh brevissima interruzione la farò eh subito dopo eh mentre mentre eh il discorso dell'autrice che è in progress ma insomma ehm credo che di poter dire che questo elemento ehm questo tipo di attenzione eh porterà sicuramente ecco un grosso contributo alla eh allo studio contemporaneo dell'opera di Francesco Petrarca e quindi saluto davvero positivamente eh questo libro e gli auguro davvero eh una vita eh legata ad ogni eh diciamo posterità ecco come come si augurava per se stesso il nostro autore quindi mi fermerei qui per ora eh e chiederei appunto a Laura Piras di eh se vuole insomma di intervenire non solo su quello che ho detto io ma su quello che che vuole dire lei. Non ho nessuno diceva Orazio quindi eh grazie a Rino Caputo per eh aver introdotto in maniera così eh attenta e eh sapiente eh il mio lavoro eh che appunto come eh come diceva eh che appunto si ehm diciamo si inserisce nella tradizione degli studi petrarcheschi proprio riguardanti il versante latino eh dell'opera di Petrarca in particolare appunto l'epistolario e il titolo sì è vero eh accolto il processo di Mellificatio ehm gioca con e fragmenta di eh Petrarca e frammenti eh di Barz. Eh mi vorrei soffermare appunto sull'epistolario. l'epistolario petrarchesco come è noto è uno tra i più sterminati della storia della letteratura moderna consta addirittura di 552 lettere costruisce e costituisce il modello di pistolario cui poi gli intellettuali guarderanno dall'umanesimo in poi sull'esempio scritto poi sull'esempio eh di autori come Cicerone come Seneca e come Barazzo Petrarca concepisce appunto le eh proprie lettere come opere letterarie non finalizzate alla comunicazione tanti infatti sono i destinatari fittizi ma realizzati con preciso intento eh artistico. La scrittura epistolare di Petrarca eh come ha sottolineato anche qualcun altro prima di me penso ad esempio a Daniela Goldin Folena è caratterizzata da un straordinario pluristilismo e varietà e ricchezza di contenuti. La trama infatti racchiude come diceva anche il professor Caputo eh una imponente massa argomentativa tematica filologica filosofica eh etico-religiosa e eh le lettere assumono in più di un'occasione una dimensione trattatistica. In questo contesto così il complesso è variegato però la riflessione sulla letteratura e su alcuni principi di arts poetica sui quali ho voluto soffermare l'indagine eh assumono uno spettatore tale che le argomentazioni dell'autore arrivano a toccare alcuni temi decisivi della storia eh dell'interpretazione del testo e dei problemi eh della scrittura. Eh dopo la presentazione del professore il testo si sviluppa con un'introduzione e un saggio eh volti a spiegare i risultati da me raggiunti dopo un lavoro di indagine incentrato sull'intero corpus epistolare eh per selezionare e commentare alcune lettere in cui l'autore si è soffermato ad analizzare alcuni principi di arts poetica fra scrittura e interpretazione allo scopo di realizzare un'antologia tematica che conclude eh il libro. Eh dopo mh un esame complessivo di queste lettere ho isolato alcuni nuclei tematici eh sui quali ho scelto poi di concentrare l'indagine eh e ho diviso il diciamo le lettere in tre sezioni. Eh la prima è rappresentata cioè si concentra sull'immagine del eh Petrarca lettore e scrittore. La seconda sul vero della poesia e la terza sui problemi della scrittura. Nella prima sezione ho approfondito quello che probabilmente può essere considerato forse uno dei eh dei più affascinati, degli aspetti più affascinanti di quell'autoritratto eh che Petrarca voleva consegnare ai posteri ovvero l'immagine del lettore e scrittore che eh che è diciamo un'immagine anche attentamente studiata e ben meditata dal dal poeta non di certo lasciata alla casualità. Lui non diciamo che eh non c'è molto di estemporaneo nelle sue lettere per quanto siano comunque molto intime. Canella ti posso interrompere un momento? Leggere quad primi script serunt scrivere quad ultimi legant. Esatto esatto. Ha detto. Esatto quindi. Scusami ma ecco. E quindi e quindi questo è importante questo è importante perché eh non lui non la non è tutto molto attentamente studiato infatti gioca anche con le date lo sappiamo un grande autoritratto quello che vuole consegnare i posteri e infatti l'epistolario come diceva il professor Caputo è molto importante ed è e costituisce uno degli elementi di questo eh autoritratto insieme al secretum insieme al canzoniere e sono questi eh queste tre opere sono ovviamente anche strettamente connesse. I richiami intertestuali poi sono eh sono tantissimi ecco ehm tornando a questo eh questo autoritratto eh lettura e scrittura si configurano come due eh ehm attività complementari di un unico processo di eh appropriazione e di immedesimazione nell'opera eh letteraria. L'approccio di Petra Catesto infatti ai testi non è mai basato su una critica accettazioni dei contenuti ma anzi per lui è fondamentale una curata eh ricerca della veridicità della consistenza delle fonti della corrispondenza alla realtà e a quanto eh riferito dai diversi autori. Gli antichi non sono mai quindi considerati come autoritate intoccabili come monumenti da contemplare ma come dei veri e propri interlocutori con i con i quali confrontarsi alla pari. In Petra Catesto i libri quindi si trasformano eh come ha detto anche la Loredana Chines in voci vive e che dialogano con il lettore e gli forniscono non solo le conoscenze necessarie nei diversi ambiti del sapere ma anche un sostegno psicologico e gli insegnamenti morali in cui eh di cui l'autore necessita per vivere rettamente. Quindi nelle opere di Petrarca lettura, scrittura, meditazione non sono finalizzate unicamente ad ampliare la cultura e il prestigio delle intellettuale o ad arreccare piacere e diletto ma hanno anche il compito di renderlo una persona migliore dal punto di vista etico coinvolgendo la sfera più intima della sua persona. Il compito degli antichi eh è quello di mantenere vivi quei nobili eh ideali di vita spirituale e intellettuale in cui Petrarca crede e che vede negati nel tempo presente. L'efficacia dell'exemplum degli anticrisi ed è dunque nella distanza e lui lo dice eh per usare proprio le sue parole che lo separa dalla desperata miseria dell'età contemporanea. Accanto poi ai modelli classici ovviamente prendono una posizione di eh significato, continuità e integrazione i grandi scrittori cristiani soprattutto Agostino maestro esemplare di conflitti di coscienza eh sull'esempio dei padri dell'esempio stesso dei padri della chiesa Petrarca tentò eh di eh trovare una conciliazione tra mondo cristiano e mondo pagano ma se per i padri della chiesa questo incontro tra due mondi diversi paganesimo e cristianesimo avveniva sul presupposto di una concezione providenziale dell'esistenza. In Petrarca questo incontro avviene eh in nome di una fondamentale uguaglianza dell'animo umano che è la base eh sulla quale Petrarca costruisce la sua opera è della chiave del recupero dell'antico alla quale gli dà forma e che consegna eh all'umanesimo, all'età dell'umanesimo e del rinascimento. Intuendo quindi questa continuità della cultura pagana con quella patristica gli riesce a unificare a trattare tutto il campo del sapere come un uno un un unicum organico e contraporlo in quanto tale alla totale al alla lo scientifico specialistico dei suoi avversari e in questo mi riferisco in particolare eh alla scolastica ai ehm ai rappresentanti della cultura scolastica e infatti eh qui passiamo alla seconda e sto cercando di illustrare insomma un po' il contenuto eh del libro nella seconda parte eh che si concentra sul vero della poesia a favore di una nuova e diversa idea di cultura e di sapienza Petrarca conduce una strenua battaglia eh contro la cultura dominante sui più autorevoli rappresentanti. Le polemiche volte per lo più ad affermare il valore della poesia e a legittimare nel contempo il ruolo del poeta permette una Petrarca di inserirsi in quell'acceso dibattito che sulla gerarchia delle arti che aveva caratterizzato tutto il trecento e che aveva visto prima di lui schierato un altro poeta laureato mi riferisco ad Albertino Mussato. In questa prospettiva penso eh alle lettere indirizzate ai vecchi dialettici la familiare uno sette e uno dodici oppure le pistole contro Zoilo la due dieci e la due diciassette in cui difende la funzione sapienzale morale oltre che decorativa del linguaggio metaforico. Per Petrarca e questa è una grande eh novità un tratto veramente moderno la poesia è fonte di conoscenza perché contiene la verità sotto il velamen delle finzioni ed è in grado di veicolare messaggi di alto contenuto morale tanto da poter essere paragonata alla teologia. Come scrive infatti nella familiare dieciquattro indirizzata al fratello Gerardo la teologia può essere considerata la poesia di Dio. La diczio traslata quindi sebbene sia rivolta al puro e semplice diletto può prestarsi agevolmente anche al linguaggio della sapienza. Non solo quindi l'allegoria in factis tipica delle sacre scritture ma anche l'allegoria in verbis invece tipica del linguaggio metaforico possono contenere può contenere la verità. Quindi in questo caso mi sembra eh chiara anche l'influenza di lattanzio di autori come lattanzio di macrobio che ritenevano invece di ritenere come faceva la scolastica la metaforafora poetica come semplice delectabilis e quindi inutile la rivalutano uno insistendo sul principio dell'ornatus l'altro sulla sua funzione morale ed è sulla base di questi principi che Petraca fornisce un'interpretazione delle neide e del suo bucolin cum Carmen. Nell'interpretazione delle neide in particolare Petraca riprende la pratica dell'esegesi scritturale di ricavare alcuni significati di tipo allegorico dalla forza simbolica delle res, portrattrici di una pluralità di significati ma la secolarizza trasferendola in una dimensione profana. Quindi l'orizzonte di riferimento non è più quello della storia sacra ma piuttosto quello dell'esperienza umana. Il testo Petraca dunque contiene una verità che non deriva tanto dalla voluntas dell'autore quanto dalla voluntas del testo o ancora meglio come sottolinea Fensi in un studio molto importante su questo argomento è del lettore, la voluntas del lettore che riconosce in esso un significato garantito da una verità condivisibile da tutti gli uomini dalla quale il lettore si fa testimone e garante. Come testimonia del resto anche Servio, grande interprete di Virgilio, ma va a nascondere dietro i versi allegorici fatti riguardanti la sua vita privata e legittimato dal suo precedente illustre anche Petraca decide di nascondere nel suo bucoli con Carmen sotto un involucro poetico a tratti fondamentali della sua biografia offrendo nelle lettere poi un'interpretazione. Come afferma Ariani, l'intengumentum ha il compito di difendere i dolci misteri della significazione da sguardi volgari e indiscretti. Esso costituisce un tratto tipico della poesia che spesso può rendere, e certo questo è riferibile alla sua dimensione estetica, e può rendere del resto anche in qualche modo incomprensibile il testo, ed è quindi necessario un intervento chiarificatore esterno. In questo caso aspetta l'autore dare la chiave interpretativa. Adesso volgendo al termine, mi concentrerei un attimo sulla scrittura, sui problemi della scrittura sollevati da Petrarca. Per Petrarca la scrittura è un lavoro assiduo, paziente, meticoloso. Lo studio e l'esercizio continuano, anche un lavoro di affinamento, di laborlime condotto sui testi, sono fondamentali se si vogliono realizzare opere in grado di vincere gli insulti del tempo e quindi di rimanere nella memoria. Un bravo scrittore deve avere dei modelli ai quali ispirarsi, avere dei modelli perché la letteratura, come diceva il mio professore di latino, è un grande dialogo. Avere dei modelli però non significa essere vincolati ad essi, ma seguirli in libertà e autonomia sulla strada da loro indicata, come le api. Lo scrittore deve fare come le api, che raccolgono in lettere e le nettare da vari tipi di fiori per trasformarlo in miele, così lo scrittore deve nutrire il proprio ingegno di varie letture per fonderle e trasformarle in un'unica opera del tutto nuova. L'imitazione pertanto è ammessa, ma deve rimanere opportunamente nascosta. Deve essere anche questo il frutto di un lavoro paziente di assimilazione profonda più che di prelievo elementare che risulterebbe facilmente riconoscibile e quindi l'opera sarebbe di scarso valore. Inoltre Petrarca nelle sue lettere elenca in buona sostanza le caratteristiche che deve avere uno scrittore. Innanzitutto deve avere un'ottima cultura, una buona cultura, deve avere delle competenze tecniche, ma deve avere anche delle caratteristiche morali. Deve essere retto dal punto di vista morale, deve essere modesto, nobile d'animo, deve avere non curanza e nobile disprezzo di ogni cosa materiale, insomma un animo alto, una natura adatta e poi deve avere una forza interiore, quella è l'ispirazione possiamo dire che contraddistingue il vero poeta da tutti gli altri uomini. Inoltre, come leggiamo nella collazio Laureationis, è necessaria una fervente passione. Senza la passione nessuno scrittore può raggiungere i risultati sperati e quindi accedere alle alte solitudini del Parnaso. Tuttavia, come spiega lo stesso poeta, questa passione può trasformarsi anche in morbus dell'anima. Ebbene, sì, come ho tentato di dimostrare nel mio lavoro, la voluptas scribendi e la voluptas leggendi, che sono dei murbi insanabili che lo affliggono, rappresentano d'altra parte anche delle caratteristiche peculiari che distinguono il vero scrittore dai poeti della Domenica e dal Volgo. Inoltre, Petraca possiamo dire che era già riconosciuto dai suoi contemporanei come una vera e propria autorità in ambito letterario e veniva contattato quotidianamente da tutte le parti dell'Italia, dall'Europa, per leggere e valutare gli scritti altrui. In vari luoghi dell'epistolario, infatti, rappresenta se stesso come un vero e proprio critico letterario militante, spesso assediato da scrittori improvvisati alla ricerca di legittimazione. Inoltre, gli scritti di Petraca venivano letti pubblicamente, però Petraca avvisa, lo scrive anche nella senile 17.3 indirizzata a Boccaccio, le sue opere dovevano assolutamente evitare il plauso del Volgo. L'obiettivo era quello di circondarsi di persone competenti e sodali e rivolgersi a un pubblico selezionato. Infatti, da ciò che si evince in una lettera scritta dal cardinale Bernard Albi, indirizzata a Petraca, risalente al 1342, il cui ritrovamento si deve a Feo, Petraca aveva attorno a sé una sorta di accademia, piccola accademia di fedeli che formavano una sorta anche di sacra setta, possiamo dire, desiderosa di ascoltare le parole del poeta e di ascoltare la sua dottrina, alla quale tuttavia, come ho tentato di dimostrare, era veramente difficile accedere e quindi prendere la cittadinanza di quell'aristocrazia di lettere, di quella aristocrazia culturale fondamentalmente a Pupetraca sentiva di appartenere e alla quale restò fedele fino alla fine dei suoi giorni. Antonio, scusami, ti interrompo a questo punto dopo questa bella ed esauriente descrizione, quindi abbiamo davvero la possibilità di sapere che cosa dici, diciamo, e come lo dici. E infatti proprio questo discorso che hai fatto da ultimo ci fa capire quanto il tuo lavoro sull'epistolario ha toccato dei nodi fondamentali ancora oggi che noi dobbiamo, la cui, diciamo, lucida proposta o esposizione, se volete, dobbiamo proprio a Pedrarca. La comunità degli studiosi, quindi davvero l'umanesimo realizzato, no? La res pubblica letteraria di cui, come dire, si ricorderà tantissimo il suo autodefinito sia allievo Giovanni Boccaccio, però anche delle modalità del lavoro letterario. Allora, tu giustamente parlavi delle api. Io insisto su un altro aspetto che era ben presente a Pedrarca e che secondo me potrebbe essere definito con parole moderne, quindi non le voglio attribuire a Pedrarca, se vuoi le dico io, però potrebbe essere interessante proprio alla luce del tuo lavoro. Quando lui dice, a un certo punto, parla delle api e di questo criterio della melificatia e poi subito dopo dice Felicius Quidam, no? Ma ancora più felicemente è quello che fa come i vermi, lui li chiama i vermi, cioè i bachi da seta, perché, per usare parole moderne, i bachi trasformano la quantità in qualità, cioè mentre le api colgono fior da fiore, come sappiamo, e stanno dentro il processo naturale, i bachi, i vermi, producono qualcosa che non è in natura e che è il filo della seta. Ecco, secondo me questa è una lucidità tremenda da parte di questa carta, cioè accorgersi di questo elemento. E poi una domanda ti faccio così, io mi taccio, se alla luce del tuo lavoro come si potrebbe porre oggi l'annosa vexata questio del rapporto, diciamo così, Petrarca-Dante-Boccaccio? E poi magari le posizioni le giri tu come ti pare? C'è qualche novità da questo tuo discorso sull'epistolario? Sì, certo, beh, insomma, diciamo che il rapporto fra Dante, tra Dante, Petrarca-Boccaccio è stato ampiamente studiato, indagato. Io ho tentato comunque di ricostruire un po' questi rapporti, diciamo che fra Petrarca-Boccaccio c'era una grande amicizia, molto intima, molto forte anche. Diciamo che per quanto riguarda Dante, che è il grande maestro taciuto, ecco, possiamo dire, Petrarca, come ho scritto anche nel mio libro, Petrarca aveva assolutamente presente il modello dantesco, per quanto lui non ne parli mai, lo tenga sempre nascosto, però questo è dimostrato dalle varie riprese anche di alcune opere, di alcune parti dell'opera gantesca, di alcune immagini, sempre però seguendo quel processo di mellificazio, imitazio, similitudono est identitas, non è assolutamente la stessa cosa, quindi lui se ne discosta, se ne discosta. Poi dicendo altrettutto lui, Petrarca si dedicò alla poesia volgare, lo sappiamo, ha raggiunto la sua grande celebrità, proprio grazie al canzoniere. È curioso che Dante si aspettava la gloria anche e contemporanea dal latino, ma vinceva sempre Albertino da Mussato nei festival veneti, diciamo così, e lui era amareggiato e poi tu hai citato il Bucolicum Carmen, ecco è molto interessante vedere come il Bucolicum Carmen di Petrarca vada un po' oltre l'occasionalità di quello dantesco, cioè quello di Petrarca è davvero così un trattato consapevole di poetica, quello di Dante è il tentativo quasi quasi di difendersi da un senso comune che certamente poi non era vero, ma che intanto circolava. Certo, certo, sì sì. No, ma infatti, ma anche, vabbè, Petrarca si difende dalle accuse di invidia che i contemporanei stessi li muovevano, poi dice di non essersi mai, lui pensava di ricevere la gloria dall'Africa e da De Veris Illustribus, invece in realtà la gloria, l'immortalità, la ottenne poi per il canzoniere, quelle sciocchezze che lui diceva, le chiamava sciocchezze, riprendere poi Cattullo, le nugge, le sciocchezze. Però contemporaneamente polemizzava, no? E qui è proprio una contraddizione, insomma, siamo a livelli che soltanto le grammatiche del Novecento hanno un po' illustrato meglio, cioè davvero i complessi interiori, i conflitti interiori della mente oltre che dell'anima. Quando lui dice, ma io non ne posso più di tutti quelli che vanno in bocca al pubblico, lui dice Volgo, ma no, ed è chiaro che lui dice, io non sono come Dante che, no, come diceva già Sacchetti, no? Anche il Fabbro cantava il libro di Dante, dice proprio cantava il libro di Dante nel 309 e io non faccio cantare la mia opera dal Volgo, me ne sto per conto mio, quindi insomma, più chiaro di così. Sì, 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 lui, infatti lui sperava di avere, se Dante aveva ricevuto la palma grazie alla sua opera volgare, lui invece la desiderava grazie all'opera latina. E poi sappiamo che invece l'immortalità, la gloria, quella gloria... Le cose vanno diversamente da come uno si immagina. Ecco, e no, volevo anche, ultima osservazione, se il nostro ospite gentilmente ci consente, volevo che ci fosse però un riferimento anche a occasioni ecdotiche che hai incontrato, cioè ti sei trovata di fronte anche a, appunto, a cruces dell'interpretazione, no? Per alcune lettere. Poi hai dato la tua, insomma, anche rispetto ad una consolidata bibliografia. Ecco, mi pare, senza annoiare nessuno, però un riferimento a questo mi piacerebbe che tu lo facessi. Beh, allora, per quanto riguarda, per esempio, le pistole in particolare, che ancora sono prive di un'edizione moderna, questo lo sappiamo, infatti ho deciso di non antologizzarle, per quanto io le abbia studiate attentamente nel saggio introduttivo, pensando di poi magari concedergli un altro spazio altrove. Ecco, magari potremmo parlare un attimo anche, che so, dell'episodio. Ma questo non dipende da noi, dipende dal nostro amico che ci sta a chiudere per ora. Magari non anticipiamo troppo del contenuto e lasciamo, diciamo, alla curiosità del lettore. Ecco, abbiamo stimolato una curiosità e vedremo un po' se... Benissimo, e dell'augurio per il secondo libro che farà. Grazie, grazie. Bene, io vi ringrazio, vi chiedo scusa, ma come dicevo all'inizio, l'attenzione dopo un po' di tempo scema e quindi non vorrei che si perdessero i contenuti che voi siete riusciti a trasmettere fino adesso. Quindi io, come mia abitudine, ricordo il titolo, che è la cosa importante, frammenti di un discorso poetico, l'epistolario di Francesco Petrarca, di Laura Piras, pubblicato da Gorae Co nel 2024, quindi recentissimo, con una presentazione di Rino Caputo, che abbiamo avuto il piacere di avere il nostro gradito ospite. Quindi vi ringrazio tantissimo. Grazie a lei, grazie anche al professor Caputo, sono veramente contenta di questa occasione. E viva! E tanti auguri a Italia Medievale, eh! No, grazie, infatti io ricordo a tutti gli utenti di Italia Medievale di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove oltre a questa trovate tutte le videopresentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora e buona serata. Grazie a tutti!